Prova? Prova? Allora, ci siamo? Buongiorno ragazzi Buongiorno Andrea Buongiorno Buon'ora Buongiorno Dai c'è un sacco di cose da fare oggi Buongiorno Andrea Ciao, allora Grazie a tutti Sì sì Ragazzi Io Sono veramente stanco Faccio una pausa Oggi Che ho fatto? Che ho fatto? E ho fatto tardi Ieri sera sono uscito con un amico Era del tanto Non lo vedevo E ci siamo dilungati in chiacchiere Racconta una cosa Racconta l'altra Insomma Ho fatto tardi E oggi Non ce la faccio A proposito Questo mio amico Sapete cosa mi ha detto Quando gli ho raccontato Che sto facendo il servizio civile all'Arci? Che l'ha detto? Ma ha fatto Con un fare un po' arrogantello Sai come Che fai? Lavora ai barri? Ma lo so Senza macchina Mi sono andato a cominciare Ecco Eh sì Ma effettivamente Il primo impatto Gli ha un po' di navello Voglio dire C'è po' da fare? Sì ragazzi Ma ricordiamoci Che se ci fossero i volontari di barri Il caffè non lo prenderebbe Poi ragazzi Sì questa storia del circo Le sono un bar E una rispirata Sì Ricordiamoci Che i volontari In stanno dietro al bar Sono gli stessi Che organizzano gli eventi Sì E non sono i soli Perché per la buona riuscita Degli eventi Ce ne sono tanti altri Sì però Capisco Quando la gente dice Che fanno sempre Le stesse cose E che non sempre i circoli Sono posti per giovani Altra vischerata Ragazzi Basta alle chiacchiere C'è da portare i materiali Di tesseramento A più di 70 circoli Solo nell'Empolese Val d'Elsa Sarà meglio andare Ragazzi Poi la tessera Va detto E' anche importante Perché non è solo Un contributo economico Che si dà Ma è anche proprio un modo Per entrare a far parte Una famiglia Perché è proprio Per garantire Ci siano eventi E quant'altro Quindi Andiamo Dai 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 A proposito Quasi mi dimenticavo No destra Non parti No or No mm . No 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 Non Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Sì, effettivamente il primo impatto è quello, ci puoi da farlo. Ma che lo sai tuo amico... No. Vabbè, tranquilli, caro. Basta. Ragazzi, io faccio una pausa perché oggi proprio non ho energia, è troppo stanco. Perché l'ha fatto? E' stato tardi ieri sera, sono rimasto a prendere una birra con un mio amico e niente, ho fatto le ore piccole. Oggi proprio non ho banale. Non ho banale. Livelli altissimi, cioè... No. E poi che mi ha detto quando ho parlato? No, 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 no. Che è difficile, no? Oh, silenzio, via! Shhh! Pensava, pensava una cosa giusta. Perché non mi guardi? Perché io mi sento... Sto qua, sto così, e poi mi ci non parlo mai o mi rispondo troppo? Cioè, posso fare così, devo fare un po' anche? Vabbè, allora... Ma stai riprendendo? No, no, no. Ci siamo rilugati, ci siamo rilugati. Giovanni, voi lo sapete che mi ha detto... Quando... quando gli ho detto? Ma detto? Che mi ha detto? Baby! Mi ha detto! Mi ha detto! Mi ha detto! Non ti vado aiutare! Perché vanno a mettere in festeggio e poi... Allora dai, accendi la macchia e fate le mamme! Allora dai, accendi la macchia e fate le mamme! Ma che fai? Ma fai? E il barri? Ma fai! Grazie per l'altro! Io ho detto... La mia battuta! Ha detto la mia battuta e la fezzola solo! E che sapete che mi ha detto? Non mi hanno raccontato perché... Mi hanno detto, 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 di detto, del detto, del detto, del detto, del fatto! E dito, dotto, preso un dotto! Lui è... dotto! Vai! Ah! Ah... Ah... No! Oh! Vabbè! Oh! Se stavre, dai! Eh! Allora... Non posso Zehla? Ahah! Si! Non c'era! Baby, dai! Baby! E pensa! Ah! Sì, effettivamente il primo impatto è quello, c'è un po' da fare. Sì, va bene, ma il suo amico lo sa. Sì, va bene, ma il suo amico. Sì, va bene, ma il suo amico.